Ecco qua, vedete ancora peggio, questa è la vergogna, sono venute pure la finanza e non hanno fatto niente, sta portici piena, 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 piena di gente che non rispetta, non rispetta il metro di distanza e stanno facendo i loro comodi come se fosse un mercato normale, stiamo facendo proprio un mercato normale, cioè ma quale zona rossa è la situazione grave che c'è? Qua è come se niente fosse, vedete, uno cammino si va a favore a camminatelle e non c'è controllo, non c'è controllo, potremmo pure morire.